Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session su Bitcoin con analisi evoluta del 27 aprile. Sono le 23.12 e stiamo ancora aspettando responsi. Perché? Ottima la salita. Per le regole, ok, per le regole, qui possiamo ancora essere... Attivati, grazie. Qui possiamo ancora essere alla quarantesima barra, quindi la chiusura del primo T-3 inverso fatto dall'alto e qui siamo ancora eventualmente alla quarantaquattresima che può ancora provare a tornare sopra questo massimo a 29.888 dollari per poi far partire il secondo T-3 inverso, ovvero il secondo ciclo AU giornaliero. Qui abbiamo avuto una spike. È stata interessante, ma la relativa discesa è durata talmente poco che siamo tornati a rimbalzare verso l'alto. Quindi non abbiamo avuto nessun tipo di partenza di T-3 inverso. Dove può essere iniziato un altro T-3 inverso? Alla ventitresima barra? Perché qui abbiamo due condizioni per la partenza di un secondo T-3 che è... a che punto sarebbe arrivato qui? Sarebbe arrivato a 17 barre, ma se tornassimo sopra al massimo e continuassimo a salire fino almeno l'1 e un quarto o la barra dell'1 e un quarto, l'1 e mezzo l'1 e le due, voglio dire allora completeremo questo T-2 inverso. Non amo moltissimo ragionare di possibilità a 23 candele che succedono, sono molto rare rispetto ai cicli a dalle 24 in su lo lascio qui, ok, per sicurezza perché intanto la spinta rialzo c'è, i volumi ci sono questa candela ha fatto veramente paura ok, perché era totalmente verde e poi si è persa e può aver indotto tanti a evitare di andare long ok per quanto riguarda l'inverso, quindi questa è la situazione grandissima incertezza possibilità di avere sostanzialmente un t-3 inverso a 23 barre non bello, ok, è un secondo che deve ancora chiudere ritornando verso questi massimi oppure abbiamo, come già detto, chiuso così e se rimaneremo 5 barre 1, 2, 3 e siamo alla quarta 5 barre sotto questo massimo appunto a 29.888 dollari e poi dopo ancora una barra rispetto all'attuale andremo sopra ecco qui potremo avere però una violazione talmente rapida del massimo da cui partirebbe il secondo t-3 che rischieremmo un raccordo e la cosa non mi piace chi mi vede solitamente operare nel gruppo premium sugli indici sa perfettamente che un vincolo troppo rapido non quaglia ok sarei immediatamente portato a dire così ok, fatto un'altra barra sotto il massimo ci andiamo sopra dopo continueremo a salire ok perché siamo a 23 barre su minimo appunto 24 farei un 23 più 24 tutto quello che voglio non è un altro 24 24 minimo ovviamente come discorso però in ogni caso la situazione continua a essere di rialzo tendenza a rialzo nonostante queste due meravigliose candele rosse viste ieri che possiamo imputare a qualche cosa in particolare boh hanno tirato fuori le teorie più strane ok wallet del governo americano vendite dalla Papuasia antica balene spiaggiate a largo di orione non lo so ok intanto a noi sinceramente poco interessa ok ci interessa che siamo su un ciclo t settimanale che nonostante questo movimento per ora è rialzista ok da questo t settimanale può partire decisamente qualche cosa di più perché già con un terzo barra quarto t meno tre sappiamo che può partire anche un t più uno da qui ok stiamo però rimanendo sopra sotto voglio dire i massimi precedenti certo abbiamo fatto una bella salita siamo tornati in golden cross e siamo nel bel mezzo del possibile ok del possibile comunque tutto già vincolato a rialzo se da qui confermassero il t inverso saremmo vincolati già a rialzo se qui torneremo tra poco sopra questi massimi sopra il massimo a 30.000 e 34 dollari saremmo vincolati a rialzo nel primo caso avremmo un primo t meno tre secondo t meno tre terzo t meno tre quarto t meno tre e potremmo salire per minimo due giorni ok se invece ci vincoleremo dopo questo movimento avremmo ben più tempo di salita ben più tempo però ci siamo vincolati o almeno siamo ritornati sopra i 30.000 e 34 dollari no quindi non ragioniamo fino a che non ci arriveremo io ho già messo un allarme qui perché a me interessa già capire se come immagino andremo a finire sopra i 29.888 dollari per me già questo è importante capire quando lo farà se lo facciamo con questa candela abbiamo potenzialmente semplicemente la chiusura a 44 barre di un t meno tre inverso oltretutto se andassimo anche qui sopra escluderemo la partenza del t inverso da qui e la risposteremo di nuovo qua ok perché per le regole in questo momento questa è ancora valida ok questa bisogna ancora aspettare di vedere se è possibile perché non siamo a 48 barre sotto questo massimo lato indice a che punto siamo arrivati questo è più semplice primo t meno tre secondo t meno tre terzo t meno tre dove può aver chiuso qui può aver chiuso a 22 barre no sarebbe stato tanto bello comodo e semplice qui può aver chiuso a 26 barre e poi ripartenza rapidissima sì qui sì ok e qui potrebbe aver appena chiuso a 32 barre oh sì assolutamente anche qui come qui sono due punti papabili per la partenza del quarto t meno tre ricordiamoci che mediamente dopo anzi ho fatto un t meno uno e potremmo farlo a 4 o 5 tempi e poi c'è discesa ok perché andiamo a chiudere un t meno uno e di nuovo rischiamo di perdere un po' di un po' di smalto certo noi stiamo continuando a salire questa roba qua ce la siamo rimangiate queste due candelacce brutte ce le siamo rimangiate con più tempo ma siamo ritornati su questo significa forza questo significa che anche di fronte a un movimento imprevedibile ok e siamo riusciti piano piano a recuperare e siamo riusciti ad andare a confermare il golden cross e stiamo utilizzando la media mobile a 50 periodi per salire non la stiamo perdendo la perderemo quando se questa non sarà stata la chiusura del terzo t meno 3 andremo comunque a chiudere un t meno uno come vi dicevo ma nel frattempo noi abbiamo ancora bisogno di capire se un t inverso è partito da questo massimo oppure se ritorniamo a prenderci questa centratura qua perché dobbiamo vedere se rimaneremo per 48 bar sotto i 30.034 dollari quindi vi rimando a domani mattina e come di consueto il suggerimento è di tradare soltanto con i vincoli provate eventualmente tutti i tecnica 2 che volete dalla media mobile a 50 periodi ma mi raccomando stop molto stretti prendetevi pochi rischi perché dobbiamo ancora capire in che situazione ciclica siamo direi che è tutto spero che abbiate anche apprezzato il video del VIX che probabilmente sta finendo di passare adesso è interessante perché parla di cosa può succedere su S&P 500 rispetto ai mercati europei questo è tutto vi ringrazio per il vostro tempo vi auguro una splendida serata la mia la sarà sicuramente perché sono stanco e mi merito di andare a dormire arrivederci se il video vi è piaciuto ovviamente mettete un bel like consigliatelo agli amici e tal di buona serata grazie a tutti